buonasera buonasera a tutti gli spettatori questa è una live un pochino particolare perché perché quasi interamente la maggior parte di questa live verrà trasmessa verrà registrata e poi caricata su youtube perché perché vorrei fare una cosa un pochino particolare ossia con l'aiuto del buona zaria bello alias francesco buonasera eccolo qui vorremmo provare una nuova webcam io in questo momento sto usando una web del hockey full hd mi pare sia mi p13 qualcosa del genere che però mi sta un pochino stretta perché adesso io per esempio vedo vedo l'anteprima molto piccolina ma c'è qualcosa che non va al di là delle luci di una luce comunque molto sparata no molto frontale dovrebbe essere un pochino diversa luci sullo sfondo non sono male sono luci soffuse che mi fanno anche qualche qualche riflesso addosso ma ci sono delle cose che non vanno e francesco infatti se ne accorto anche lui vede piccolino però già si era accorto che c'era qua delle bande che si muovono il frame rate non è proprio il massimo c'è molto rumore nella nelle parti scure dell'immagine nel mio viso ovunque e quindi vorremmo provare diciamo ho provato a farci un piccolo rimedio comprando questa webcam che la faccio vedere qui è la elgato facecam che promette di essere la miglior webcam sul mercato per il streaming per lo streaming perché questa scelta perché fondamentalmente almeno da come dice il web oltre questo ci sono soltanto le mirrorless collegate via via camlink e però era una spesa un po eccessiva perché se vuoi prendere una sony alfa 5100 si va a spendere il 400 euro almeno più il camlink ed era una spesa invece questa qui con 150 euro più o meno si riesce a portare a casa e speriamo non deluda le aspettative in questo caso voglio fare un unboxing proprio live con anche le reazioni di francesco che mi dirà la sua e vediamo cosa succede e andiamo ad aprire io a dirla tutta ci ho già dato un'occhiata quindi non è proprio chiusissima ma poi ci fai vedere anche come si vede certamente quello è l'obiettivo la settiamo proprio insieme allora questa qui ha delle cose bellissime che sono i comandi proprio manuali cioè tu qui non vai a regolare l'esposizione ma va a regolare proprio lo shutter speed e c'è una particolarità oltre ad avere un sacco di belle cose tipo e full hd 60 frame non compresso quindi tutto il segnale video va direttamente al computer ha delle ottiche 2.4 24 millimetri e tutto ma questa qua teoricamente dovrebbe essere plug and play questo che cosa significa significa tu la puoi collegare e funziona fondamentalmente perché tutte le impostazioni che dà il programma legato facecam le salva e quindi ce l'hai sempre disponibili quindi il programma non serve c'è non serve per forza passare da un programma il programma serve soltanto per impostare la fotocamera che poi funziona da sé almeno così mi sembra di aver capito eccola qui bello è mattone allora allora quindi abbiamo la elgato facecam con il suo coperchio privacy poi abbiamo visto il manualino e fondamentalmente abbiamo qui il cavetto dovrebbe essere usbc è sì allora il cavetto usbc usb dall'altra parte allora quindi questo è l'unboxing allora per prima cosa dico un bel mattoncino però allora da come viene mostrato nelle immagini sembra sembra quasi metallo perché c'è la plastica è fatta molto molto bene però fondamentalmente è leggera quando la vedi nella nelle immagini sembra sembra metallica invece non lo è cioè è profondamentalmente plastica è una plastica molto ben fatta ed è dall'idea di essere molto piuttosto però effettivamente probabilmente dentro è vuota fondamentalmente a parte il gruppo ottico e il sensore qui dietro col sistema di dissipazione non avrà tanto altro molto bello il fatto che abbia un cavo separato così non si romperà mai perché uno la lascia fissa però se si dovesse rompere tu cambi soltanto il cavetto usb vediamo un attimo come la situazione qui ritorno ecco qua allora si vede allora allora oddio non vedo che sia cambiato molto anzi è peggio per per ora è peggio però questa acqua va settata lo vediamo un attimo aspetta accendi le luci e queste sono accese cioè accendile magari con una tonalità molto chiara vedo che però devo utilizzare una luce molto più forte ma secondo me secondo me sta qualcosa di settato male o magari adesso vediamo tutto anche perché io posso fare una cosa molto bella allora ma parte il fatto è uno che allora come inquadratura è molto più stretta allora effettivamente il campo visivo è effettivamente molto più piccolo allora no sta in full hd ma io voglio metterlo full hd 30 perché c'è agli iso sparati al massimo ma come sono smarmellato e questo non mi piace per niente però già è molto meglio rispetto a prima ma non allora l'espositore toglie togli l'automatico esatto allora vediamo un po io metto un trentesimo alziamo gli iso ok vediamo contrasto saturazione nitidezza potrei pensare anche di fare una cosa ossia di sfruttare ma si deve aggiornare il firmware allora che quello aggiornare il firmware tu hai 2.5 vai a giorno allora l'idea è che forse con questa webcam posto utili dovrei utilizzare in giro più luce no allora perché perché faccio vedere la differenza se uso più luce e no c'è ancora grana allora io intanto ti dico che voglio usare gli iso bassi quindi io un attimo qua metto allora perché a parte vabbè tutto il motion blur esagerato questa qua per esempio già sarebbe un'immagine buona un po scura se si va vedendo per esempio nella mia web sono completamente bruciato mentre invece nella 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 stream cam nella face cam no però smarmella di brutto non proprio sai la qualità è buona perché la qualità è molto meglio rispetto all'altra cioè perché ok sta sfarfallando il che non va bene la riduzione del rumore effettivamente non è male guarda però vedi per esempio la differenza di dettaglio per esempio come si vede nei capelli si si no no l'unica cosa che non mi fa impazzire il fatto che devo tenere luci sparate in camera qua mentre la sto usando allora qua vedi come allora per esempio in live sono completamente sparato perché c'ho l'immagine tantissimo dietro sfarfallio non c'è però è un'immagine forse un po scura o no no scura no no vabbè comunque di solito la qualità è un po più scura cioè l'immagine di qualità è un po più scura allora perché adesso per esempio torno a mettere bene quello là che usavo prima ok vedete è scurissima adesso c'ho la mia webcam quella di prima che sta lavorando come lavora di solito il problema è che è scura volevo trovare un compromesso se io provassi a diminuire la luminosità viene qualcosa di veramente brutto c'è praticamente perché questa luminosità è come un filtro che si mette davanti e non mi piace proprio per niente quella la della webcam che io già posseggo mentre invece qua si sta andando a ragionare proprio di shutter speed intanto condividiamo di nuovo live schermo così almeno possono vedere questa cosa è stranissima con l'impressione che qua per avere la qualità che voglio io bisogna andare solo di mirrorless con cam link lo devo provare anche di giorno poi in caso per vedere la qualità sì ma è ma allora allora sai qual è il fatto beh allora il fatto è uno il fatto è uno che se uno vuole usare le luci artificiali letteralmente tutti i fotografie le usano sparate io ho già una situazione del genere è quasi accettabile sì però è il quasi accettabile non c'è il quasi accettabile che avevi prima con la tua webcam che hai pagato 25 euro perché adesso mettiamo le due immagini a confronto cioè guarda là allora guarda là l'immagine sicuramente più dettagliata vale il prezzo che l'hai pagata ah ma io lo posso modificare direttamente così aspetta hai un faretto a casa? no però ho la lampada qua che posso dreamerare come voglio dreamerà dreamerà con un colore molto chiaro ecco qua eh eh già è un'altra storia troppo rumore di fondo troppo ma pure sulla felpa io vedo il tuo rumore no sulla felpa no no io la felpa io la vedo la vedo bella bianca però questo qua che cosa si fa? in questo caso si va di si abbassano gli ISO mettiamola a 200 metto a 200 ISO aumento questo penso sia un problema delle mie luce e poi devo aumentare qua devo metterlo al massimo e c'ho la mia bella immagine immagine che in questo modo io non posso assolutamente ottenere con con la mia webcam attuale c'ha anche un po' di sfocato dietro devo dire rispetto a questa però è molto meno grandangolare cioè oddio la webcam continua ad essere leggermente migliore però di poco di poco di poco di poco secondo me secondo me è l'unico cellulare che può essere paragonabile una macchinetta di buona qualità nell'iPhone no vabbè quindi sai che devo fare? lo devo provare un pochino domani con la luce però per esempio vedi a questo momento non sta sfarfallando c'è un po' di rumore qui il nero è abbastanza nero delle mirrorless buone per dire con gli ISO possono andare tranquillamente a 400 800 senza problemi però ne vale la pena fare una cosa di queste questa è la domanda e questa qua è la situazione del video allora il fatto sai qual è che io se la vedo abbastanza piccola lo va anche bene cioè se tipo lo vedo nell'anteprima l'admo del secondo schermo se lo vedo a tutto schermo a parte che io ho uno schermo 27 pollici quindi per il computer quindi effettivamente vedrò sempre dei difetti no ma pure io lo tengo a 27 ad esempio qua guarda quanto rumore c'è qui sai i capelli per esempio non si vedono e ora ho messo delle impostazioni che dovrebbero tipo equipararle quando poi vado così e questa è tutta altra immagine allora perché mettendola così allora mettendola così qui non c'è più rumore no questo è lo sfarfallio dovuto alla luce no lo sfarfallio non c'è no e no c'è ancora un leggero rumore e questo è anche a ISO 100 mi fa rumore non ho un parere perché mi piace però sono rimasto un po' deluso e questo mi blocca perché sono riuscito a tirar via una bella immagine cioè con questa secondo me ci posso fare anche un video reso conto finale delle prime impressioni un pochino deluso aspetta qualcosina di meglio in low light però una immagine sicuramente migliore della mia webcam che fondamentalmente è questa qui cioè la qualità sicuramente si nota la differenza avrei sperato in qualcosa di un pochino più grandangolare in modo tale da poter mostrare molto di più però questo non è un grandissimo problema nei movimenti a 30 fps ci siamo fondamentalmente anche se no non fa particolari fa un po' di motion blur e tutto probabilmente ci sarà la sfida col telefono vediamo un pochino come sarà la situazione ho detto questo ai miei due spettatori che siamo io e te Francesco praticamente do il saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao